Una delegazione della diocese di Teramoatri insieme al presidente Marco Marsiglio e all'assessore Pietro Quaresimale è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre in previsione dell'inaugurazione dell'albero di Natale del presebe artistico di Castelli allestiti in piazza San Pietro. Con l'occasione il presidente Marco Marsiglio ha recato in dono una riproduzione del rosone della Basilica di Collemaggio dell'Aquila e nel ringraziare il sommo pontefice per il privilegio concesso ha auspicato quanto primo di poter ospitare in Abruzzo il Santo Padre. Il Vescovo di Teramoatri ha annunciato invece la realizzazione di un presepe per tutte le scuole abruzzesi. Grazie per averci accolto nella sua casa e sono rietto di presentare la delegazione della diocese di Teramoatri e i rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali. Quando ci è giunta la notizia di questo dono di allestire il presepe di piazza San Pietro il dono espressione del liceo artistico di Castelli, una scuola molto importante. Noi siamo, si siamo riuniti e devo dire, tanto entusiasmo per vivere insieme un bellissimo cammino di preparazione. Poi l'enciclica Fratelli Tutti. Devo dire, devo testimoniare il grande entusiasmo di vivere insieme questi momenti. Come sapete l'ufficio scolastico regionale che ha indetto un presepe per tutte le scuole dell'Abruzzo. I giovani ragazzi avrebbero desiderato essere qui. Il Papa invece ha ringraziato la delegazione abruzzese e quella di Slovenia che ha donato l'abete rosso in piazza San Pietro. Cari fratelli e sorelle, siete venuti per la consegna ufficiale dell'albero di Natale e del presepe posti in piazza San Pietro. Vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. Saluto la delegazione della Repubblica di Slovenia, guidata dal Ministro degli Esteri, accompagnata dal Cardinale Rodè e dell'Arciverso di Maribor. E' composta da altri ministri, ambasciatori e distinte personalità. La Slovenia, infatti, ha donato il maestrosso abete rosso scelto nei boschi di Koscevce. E saluto la delegazione della diocesi di Teramo Atri, con il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi e numerose autorità civili. Dalla vostra terra, precisamente da Castelli, proviene il presepe monumentale in ceramica. La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro conforto. Ma per accogliere questi doni di grazia occorre sentirci piccoli, poveri e umili, come i personaggi del presepio. Anche in questo Natale, in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo, inerme, è il segno che Dio dona al mondo. Grazie.